guardate che sta facendo vittorino unico vittorio unico grande grande vittorino da vittorino che questa volta la metter centrale sotto la traversa a vittorio bernardo che in questo momento il mio idolo grande guardate dove vittorio è su un furgone scoperto c'è la speranza dice questo amico calcio grandi ragazzi grandi un saluto a tutti vittorio se mi senti falli cantare vittorio intanto tua messa bonara entrano per la fiorentina doppio cambio andiamo andiamo grande sentiamo sentiamo di live a non no 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 C'è un diretto ora! Ragazzi un cuore, un cuore, un cuore! Ragazzi un cuore! Ragazzi un cuore! Ragazzi un cuore! Ragazzi un cuore! E lo sai che lo tiriamo! Obunque tu sarai! Ti seguiremo! Venendo del peccionico con che non mi abandona! La peccionica con la loro! Rebani, Rebani! O' la mia pechina! E' un cuore, un cuore! Oh! 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 Lo faccio! Non lo capisco! Andiamo al telefono! Pronto! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Da dove ci chiami? Anzelo da Trieste che ero in sala coronaria ero avuto un impatto 10 giorni fa e mi salutavo pure una volta scorsa Ah si ho capito! Intanto esce Simeone e entra Simeone piacere ovviamente di sentirti come stai innanzitutto? Sono uscito ieri dall'ospedale Bene, bene! Hanno messo tre palloncini va bene andiamo avanti comunque forza Napoli Sempre, sempre intanto è entrato Simeone ma sugli spalti c'è anche il papà di Simeone il ciolito Simeone Il ciolito Hai visto il Napoli in festa il Napoli che sta vincendo anche oggi Cioè noi suoniamo paccheri a tutti quanti Eh si io ho dovuto chiudere i giochi perché dato che ero là ho dovuto chiudere perché non ce la facevo perché ancora mi sta in terapia intensiva ho dovuto chiudere dall'emozione